Eh sì, proprio così, Linkem 5G. Questo sarà l'argomento di questo video. Oggi vi spiego questa nuova offerta di Linkem, che chi ha una connessione pessima dove non arriva fibra ottica, il cavo, il doppino telefonico vi va a 1 mega, 2 mega, in alcune zone con un'antennina potete arrivare fino a 300 mega di velocità. Quindi iniziamo questo video e vi parlo oggi di Linkem 5G. Vai! E ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale e oggi, come vi ho detto, vi parlo di Linkem 5G. Attenzione, spoiler! Queste sono le nuove antenne Linkem in FWA con tecnologia 5G che possono arrivare fino a 300 mega. Quindi, cosa vi voglio dire con questo? Ci sono altre antenne, che sono le antenne 5G, non FWA, ma 5G, che hanno velocità ancora più avanzate. Ma questo ve ne parlerò in un prossimo video. Oggi sono qui per chi abita in quelle zone disperse dove i ripetitori sono complicati, ci sono... Bisogna vedere, ovviamente, le coperture. Bisogna vedere... Bisogna controllare un po' di cose. Ma se ancora non l'hai fatto, ti invito, prima di tutto, a iscriverti al canale, lasciare un like e sotto, qui sotto, troverete tutti i link per contattarmi. Mi potrete contattare. Vediamo la copertura, vediamo dove siete e vediamo se questa nuova offerta fa per voi. Quindi, vi spiego un po' come funziona. Allora, l'Incam 5G si affida a dei ripetitori che stanno in alcune parti, in alcune zone. Quindi questa è una cosa ancora che in... stiamo in pre-partenza. Infatti, l'offerta mensile è di 24,90 euro mensili. Con questa offerta potrete navigare fino a 300 mega di velocità. Quindi, è una cosa ottimale. Per esempio, io volevo metterla per la mia abitazione. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al canale e guardare anche il mio video mentre monto un'antenna FWA. La mia è un'antenna FWA normale, va fino a 30 mega. Questa arriva fino ai 300. Però, come vi ho detto, bisogna vedere la copertura. Una volta vista la copertura, se quella copertura è disponibile, veniamo da voi, installiamo l'antenna e facciamo subito lo speed test. Se lo speed test va bene, si attiva il servizio e si vola. È una figata. 300 mega, averceli io. Purtroppo ancora non ho la copertura. Appena arriva la copertura, sicuramente lo farò anche io. Ci sono alcune zone in Marche. Abruzzo, Macerata e via discorrendo. Quindi, è abbastanza limitata. Però, voglio dirlo a voi. Voglio dirlo a voi perché ve lo voglio spiegare perché questo, secondo me, è un piccolo passo evolutivo. In quelle zone dove ci sono quei determinati ripetitori, possiamo navigare fino a 300 mega. Avete una connessione un po' più lenta del 5G normale, ma 300 mega per una casa che vi arriva 20 mega, 30 mega, credo che sia una grande evoluzione. Quindi, questo era quello che vi volevo dire. È una grande offerta. Prima di tutto, se vuoi vedere come fare, mi puoi contattare, vediamo il link. E questo mese, e spero anche nei prossimi, attivazione gratuita. Quindi, 24,90 al mese, 300 mega. E vi do una soluzione, se avete la copertura, ha la vostra connessione internet. Sì, perché se avete la copertura e avete una connessione vessima, questa è un'ottima soluzione per ogni internet. Vi basta montare un'antenna, verrà il vostro tecnico o verrò direttamente io o i miei collaboratori. E montiamo l'antenna e si naviga e si vola. Quindi, mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un like, metti commenti, iscrivi, se vuoi sapere più informazioni. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!